Sversamento di rifiuti illeciti, scatto e sequestro per due aziende nella piana del Sele. L'operazione è stata effettuata dalla Capitaneria di Porto Guardia Costiera di Salerno. Le verifiche hanno interessato i territori attraversati dai fiumi Sele e Calore dal torrente Cosa. Gli inquirenti hanno sequestrato preventivamente due aziende specializzate nell'allevamento bufalino e ovino per un totale di 180.000 m2 che sono state affidate alla gestione di un amministratore giudiziario. I figili sono scattati anche per un terreno di circa 6.000 m2 afferente a una terza azienda. Per le due aziende sequestrate è stato appurato che i rifiuti venivano illecitamente abbandonati e smaltiti o comunque immessi direttamente nei canali e nei torrenti che sfociano nei fiumi Sele e Calore.